siamo con don bruno lancuba parroco di santa maria delle grazie ad agropoli ci si sta preparando a questo natale con tanta attenzione con le raccomandazioni da parte della conferenza episcopale italiana di anticipare anche la messa di mezzanotte di mettere più funzioni per consentire ai fedeli di partecipare in queste giornate sia per la veglia che per la messa di natale senza assembramenti come si è organizzata la parrocchia di santa maria delle grazie è questo un natale particolare ma può diventare un natale molto significativo per noi cristiani siamo invitati come dire a dare il nostro contributo per contrastare il coronavirus per cui adattiamo anche gli orari delle celebrazioni e il numero delle celebrazioni a queste esigenze la parrocchia santa maria delle grazie ha messo la vigilia adesso c'è la novena ogni sera alle ore 18 poi ci sarà anche la vigilia di natale alle 17 45 la novena mentre poi ci saranno due celebrazioni della notte di natale una alle ore 19 e una alle 20 e 15 cosicché per le 21 tutti possano fare ritorno a casa visto che stando alle disposizioni fino ad oggi il coprifuoco inizia alle 22 una delle raccomandazioni che viene fatta è di partecipare ad una sola delle messe ai fedeli io credo che è bene fare delle precisazioni perché nessuno di noi sa come si regoleranno precisamente i fedeli allora per una adeguata distribuzione numerica dei fedeli è bene avvisare che dopo aver partecipato a una celebrazione si lascia spazio agli altri fedeli visto che il natale è molto sendito da tutti quanti perché noi non possiamo permetterci dal punto di vista della sicurezza dal punto di vista della prevenzione nei confronti di questo virus passi falsi e allora quando si è raggiunta la capienza massima di ogni chiesa dobbiamo invitare ad avere pazienza i fedeli a partecipare alla celebrazione successiva io credo che ognuno si renda conto perfettamente di come dobbiamo dare il nostro contributo per far sì che come dire il coronavirus venga debellato il prima possibile anche noi dobbiamo come dire fare delle scelte chiare per il contenimento del coronavirus approfitto di questa opportunità che mi offre cilento channel per formulare i miei auguri a tutti quanti voi che state in ascolto gli auguri di un natale diverso differente ma altrettanto significativo per noi cristiani per cui diamo vita alla speranza nonostante la situazione di pandemia dice il papa non lasciamoci rubare la speranza per cui celebriamo un natale di speranza